La Proloco di Bairo oggi organizza un cardevale per i bambini? Sì, assolutamente, come ogni anno i bambini sono sempre di più per fortuna, noi siamo felici, vengono anche da altri paesi vicini a Bairo e loro festeggiano, ovviamente sono così felici, bastano decoriandoli la trucca bimbi che li trucchi un po' in faccia e la festa è già fatta. E poi i dolci, la merenda? Ovviamente, abbiamo le solite classiche bugie di carnevale, ovviamente, vabbè, focacce, pizzette, ma non zabaglione, non so perché mai bambini non si possa dare. I festeggiamenti per il carnevale però non terminano qui, proseguono? No, assolutamente, abbiamo diviso, diciamo, i festeggiamenti, la prossima domenica che sarà il 3 marzo, i coscritti della leva 69 offriranno i faso i grass in piazza qua del comune dalle 11 in poi del mattino, ovviamente li cucineremo noi della Proloco, insomma, quindi è una collaborazione. I prossimi eventi in programma della Proloco? Fine aprile, il 28 di aprile, saremo ad Agliella, Sagra del Torcetto, ovviamente con il nostro zabaglione e poi prima domenica di maggio c'è la solita festa patronale, ma è ancora tutto da definire, è ancora sorpresa.